La proposta di Fratelli d'Italia in tema di legittima difesa è sempre stata molto chiara. Per noi la difesa è sempre legittima. Invece la maggioranza porta avanti una proposta di legge per far finta di occuparsi del tema che in sostanza non cambia niente. Ancora una volta la sinistra è schierata più dalla parte dei criminali che da quella delle vittime.